Ennesima protesta da parte di noi genitori della pluriclasse di Vulcano, prima, seconda e terza media, una schifosissima classe polgaio. E per l'ennesima volta tutte le autorità ci hanno abbandonato, siamo stati abbandonati a noi stessi. Noi non votiamo, non voteremo alle elezioni di novembre, non voteremo alle elezioni di giugno, non ci recheremo più a votare. Per noi finisce qui, poiché tutti ci hanno abbandonato e noi abbandoneremo le istituzioni. Io non voto, noi non votiamo!